Sono Roberto Salvi, sono nel PM Team del programma PPA, sono il planner di commessa. Il planner si occupa della programmazione della nave, dall'inizio della firma del contratto fino alla consegna. La nave Paolo Tondi Revelle è una nave lunga 143 metri, larga 16,5 metri, di circa 6.300 tonnellate. Abbiamo il ponte di coperta per l'atterraggio del collo degli elicotteri. La sovrastruttura di POPPA dove si trova l'hangar, successivamente un'area modulare di centro nave dove possono essere messe sia le imbarcazioni sia dei moduli abitativi. E la sovrastruttura di PRORA dove si trova la plancia e tutti i locali operativi della nave. Il VARO è un evento sempre emozionante e importante perché inizia a vedersi il frutto del lavoro di anni.